Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi volevo parlarvi di un programma che ci permette di illuminare una zona attorno al mouse. Si chiama Mouse Shade. È un programma il cui link sarà fornito nelle descrizioni. Una volta installato ci permette, una volta aperto, di illuminare una zona del mouse, vedete? Per far capire meglio di che cosa si stia parlando. Allora, esistono delle scorciatoie di tasti che utilizzate ci permettono di aumentare o diminuire il volume di questo spazio, di questo cerchio che si crea. Allora, premendo Alt più pagina su, paggi con la freccietta su, aumenta. Paggi freccietta giù, diminuisce. Inoltre, premendo Alt e freccia destra, premendo Alt e freccia destra, freccia sinistra si spegne, freccia destra si riaccende. In più, premendo Alt e più pagina con la freccietta in su, aumenta. Premendo freccietta in giù, diminuisce e si stringe sempre di più attorno al mouse. Allora, questo programma, diciamo, serve per tutti coloro che devono creare dei tutorial come il sottoscritto, per far capire magari agli amici o a chi li sta guardando, di quale programma si sta parlando. Infatti, ci permette di evidenziare solo una determinata parte, che è illuminata. Il resto risulta scurito. Se avete problemi o non riuscite ad installarlo, contattatemi via PM o lasciate un commento. Volevo soltanto ricordarvi che il programma, MouseShade, viene riconosciuto come Adware dall'antivirus, ma non è così. Potete stare completamente sicuri, perché questo programma non fa altro che prendere il possesso del desktop. Quindi, qualsiasi antivirus lo riconosce come virus, perché non sei tu che prendi possesso del desktop, ma è il programma che lo scurisce. Quindi potete disabilitare temporaneamente l'antivirus, scaricare e installare il programma e divertirvi a fare questi tutorial, diciamo, un po' più in stile, un po' più personalizzati e carini. Per questo tutorial è tutto, arrivederci al prossimo.